il tempo forte chiede tramite la liturgia se vogliamo una maggiore intensità di momenti di partecipazione di eventi e improvvisamente senza che nessuno l'abbia chiesto ci troviamo a vivere invece un momento di digiuno che è un po il contrario di quello che viviamo ma è quello che dall'altro lato la chiesa ci chiede nel tempo di quaresima di digiunare di tornare all'essenziale quindi non è facile perché chiede un po a tutti noi un'assenza di un elemento come ad esempio l'eucarestia che noi diamo quasi per scontato a livello domenicale come fedeli ma che invece ci viene chiesto di rinunciare quindi dobbiamo domandarci insieme come poter vivere diversamente il momento dell'eucarestia ma i diversi momenti della nostra fede si possono comunque pensare anche dei momenti da vivere in famiglia o nella propria comunità di preghiera in cui con cui avvicinarsi comunque a questo tempo certamente siamo chiamati a vivere in famiglia almeno in momenti di preghiera che la chiesa ci chiede ma penso che possa essere bello vivere nella famiglia propria in comunione con la famiglia allargata la chiesa un momento di preghiera tutti insieme può essere un modo per fermarsi un attimo e dire che sì siamo impossibilitati per tanti motivi a vivere un momento che siamo abituati a vivere che è fondamentale per il cristiano vivere ma nonostante questo il nostro cuore non si ferma seguire la messa dalla televisione o comunque dagli altri strumenti di comunicazione può essere un momento in cui ci si mette in condivisione in comunione con chi sta pregando certamente i vescovi hanno richiamato il fatto che i sacerdoti celebrano anche da soli per tutte le comunità e in comunione con tutte le comunità perché la messa è sempre una messa per tutti e poi certamente le possibilità che ci vengono offerte tramite la televisione sono uno strumento in più sono un altro per una comunione spirituale e l'ultima cosa mi auguro che questo aiuti a dare qualità nuova all'eucarestia una cosa quando ci manca poi la riscopriamo speriamo che sia così